le strategie della mafia da Nicola Gratteri a Serafino Massoni ho visto e ascoltato un bellissimo video dove parla il magistrato Nicola Gratteri Nicola Gratteri sta combattendo contro la malavita è in prima linea e ci parla di quelle che sono le strategie della mafia Nicola Gratteri è un ottimo magistrato però Serafino Massoni ha scritto quest'opera e quest'opera dovrebbe leggerla anche il magistrato Nicola Gratteri perché anche Serafino Massoni ha le sue strategie contro la mafia bene cari amici, allora vediamo qual è la posizione di Serafino Massoni per combattere la mafia perché Serafino Massoni le conosce le strategie della mafia e quindi Serafino Massoni sa come combattere la mafia e io voglio dare una mano al magistrato Nicola Gratteri allora la strategia fondamentale per combattere la mafia è quella di legalizzare tutte le droghe tutte le droghe, quelle leggere e quelle pesanti tutte le droghe vanno legalizzate la fascetta del monopolio di Stato come si fa con le sigarette hanno la fascetta del monopolio di Stato e sono vendute in tabacceria come si fa con gli alcoholici, anche quelli pesantissimi whisky, rum, vodka che hanno la fascetta del monopolio di Stato e sono venduti gli alcoholici pesanti sono venduti nei bar, nei supermercati uno se vuole si compra uno, un litro, due litri, tre litri di vodka di whisky al giorno, pro die ecco, e quindi la mafia, la malavita, mafia, andrangheta, camorra, sacra coronunità come si dice, se la prende in quel posto cioè va a Sodoma la droga, la droga, le droghe le vende lo Stato le vende lo Stato come fa con le sigarette e come fa con gli alcoholici chiaro? le vende lo Stato, le vende ci scrive sopra come si fa con le sigarette e muoce gravemente alla salute basta, la questione è finita ecco come si fa per combattere la malavita capito? tutto in mano allo Stato è il male minore è il male minore il male peggiore è che le droghe tutte le droghe siano in mano alla malavita il male minore è che le droghe siano in mano allo Stato così un ragazzo anziché andare a comprare la droga dal pusher va a comprare la droga da tabaccheria un monopolio di Stato almeno i soldi invece che li prenda la malavita li prende lo Stato ma è meglio che i soldi vadano in mano allo Stato piuttosto che alla malavita e tutto finisce e io queste cose le dico perché voglio dare una mano al potente magistrato Nicola Gratteri capito? e perché? perché io sono Serafino Massoni ho scritto quest'opera e quest'opera quando Serafino Massoni sarà morto diventerà la Bibbia dell'umanità capito? ecco come si fa ecco come si fa cari amici bene a tutti soprattutto a Nicola Gratteri a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni ok ok ok